Almeno quattro vittime. Questo è il bilancio dello scontro tra un treno e un camion militare venuto giovedì mattina in Finlandia, a Raseborg, città costiera, a 80 km dalla capitale Helsinki. Secondo le notizie fornite dalla polizia, tre delle vittime erano militari di leva, mentre la quarta era un passeggero del treno. Ricoverati in ospedale 11 feriti, quattro militari e sette passeggeri. Lo scontro è avvenuto in prossimità di un passaggio a livello, lasciato aperto e incustodito. Il mezzo militare ha attraversato i binari innevati proprio nell'istante del passaggio del treno. Grazie.